Partita in Abruzzo la campagna olivicola 2019, che stando ai dati diramati da Coldiretti Abruzzo nei giorni scorsi, sarà ricordata come un'annata ricca per quanto riguarda sia la qualità dell'olio extravergine d'oliva abruzzese sia per i numeri che caratterizzeranno la produzione. La prima stima da parte di Coldiretti fa registrare fino al 50% in più di produzione rispetto allo scorso anno, quando la Xylella aveva aggravato la situazione della nostra regione, con la previsione che si attesta attorno alle 11.000 tonnellate di olio contro le 7.000 della scorsa raccolta. Se la provincia teatina si appresta ad affrontare una stagione più che positiva, non si può dire la stessa cosa di alcune zone del pescarese, dove la produzione è scesa con punte negative che si attestano in alcune zone anche al 50%. Il presidente della DOP a Plutino Pescarese, Silvano Ferri. La produzione quest'anno si caratterizza proprio con un termine tradizionale, a macchia di leopardo. Naturalmente qui hanno influito i fattori climatici, in particolare quelle due o tre giornate del mese di maggio, nel periodo centrale del mese di maggio, abbiamo avuto delle serate che le temperature sono scese a 5-6 gradi e qui gli ulivi che si trovavano già avanti come fioritura hanno subito un danno irreparabile. Questa lacuna però viene colmata dalla qualità del prodotto, il quale presenta già dalla prima molitura un profumo intenso, con un buon carattere e con il passare dei giorni quest'olio non può che migliorare. Abbiamo quest'anno un prodotto di straordinaria qualità. Se consideri che io ho assaggiato gli oli sia dal 26-27 di settembre, che avevano già i profumi, erano oli che avevano carattere. Sicuramente poi nel corso dei giorni, di questa settimana, stanno venendo fuori degli oli straordinari con dei profumi, con delle sensazioni olfattive meravigliose, che ci fanno ritornare indietro di decenni. Ma attenzione, aggiunge Coldiretti Abruzzo, il rischio di comprare olio che viene dall'estero spacciato per italiano è sempre in agguato. Il consumatore deve fare attenzione a verificare bene la provenienza. Insomma, avverte Coldiretti. Attenzione a cosa compriamo. Grazie a tutti.